GSI Pram 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 I'm the original special dedication I'm a fireman Magari un giorno non sei nessuno E magari un giorno poi diventi qualcuno Qualcuno sia una persona importante Uno che deve dire tante Tante cose giuste per sembrare importante E colunetti la seduta stante De la punna a moi, de la punna a moi Bruce Boy selecta per riprisare un boi Riprisare un boi, riprisare un boi Bruce Boy selecta per riprisare un boi Se la dico giusta per la dico bracciato Entrato sull'estero se non caggio buttato Ed è spezzerato, spezzeradezza Anche se a volte ci copriamo di monnezza Ci copriamo di monnezza per altri Cani caderno al capo di santi Scenora Sto wonderful interesante Ero Bada Ero Presente Ero Siamo arrivati all'her, andiamo a trovare un'attività.